Lo zaino, il primo compagno di scuola. Dopo tanti mesi separati, è il momento di riprenderlo. All'interno però quest'anno, insieme ai libri, ci sono anche nuovi compiti, nuove abitudini, nuove modalità e nuove regole da rispettare. Perché questo zaino appartiene a loro, ma la responsabilità appartiene a tutti. Rientriamo a scuola, in sicurezza. Scoprite di più su istruzione.it slash rientriamo a scuola. Grazie.